Mettersi nei panni dell'altro, riflettere sul concetto di diversità per superare insieme come comunità barriere fisiche e mentali. E' questo il cuore del progetto Tutti in carrozza che ha coinvolto gli alunni della scuola media Archimede di Bolzano. Durante le ore di educazione motoria ragazzi e ragazze sono saliti sulla sedia a rotelle per capire in compagnia dei loro amici che devono guidarlo ogni giorno cosa significa muoversi in carrozzina affrontando ostacoli piccoli e grandi. E' stato bellissimo ed è stato anche molto emozionante. Devi avere tanta forza per girare, per frenare. Un'iniziativa pensata da due professori Martina Sartori e Claudio Fusaro. Il loro entusiasmo ha contagiato tutti i colleghi e i ragazzi hanno affrontato la sfida con serietà e concentrazione. C'è stato all'inizio qualcuno che ha avuto proprio un rifiuto psicologico e diceva basta, basta ho capito, ho capito. E quindi non c'è stato divertimento in questa cosa, c'è stato la presa ad atto di un problema. Nei prossimi giorni si rifletterà insieme su questa esperienza. Bisogna fare in modo che sempre più persone si avvicinino al mondo della disabilità che li vivano e sperimentano insieme iniziative di ogni genere. Andarsi a mangiare fuori una pizza, prendere i compagni di classe, in questo caso adolescenti, ma anche gli adulti, le persone anziane. Bisogna essere sempre uniti e cercare di fare esperienze insieme.